ci sei? ci sei? un saluto agli amici di Messina Web TV anche stasera 11 agosto 2010 siamo tornati qui alla fiera di Messina una serata meravigliosa come del resto lo è sempre perché c'è una bella organizzazione bella gente, c'era magari un poco da cauro ma noi abbiamo resistito nonostante l'umidità l'abbiamo portata in porto speriamo di vederci ancora in giro, cercateci nelle varie città della Sicilia vedrete i manifesti miei, dei miei colleghi di Salvo la Rosa nel teatro, insomma di tutto quello che volete e seguiteci anche in radio, visto che siete una Web TV vi ricordo che c'è www.radiostudiocentrale.it dove potete seguire alla Catalla in diretto ogni giorno da lunedì a venerdì grazie e buona estate grazie 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 Grazie. 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 Grazie.